E bello ragazzi sono Gili Braga, sono qui oggi tornato per portarvi un altro video Visto che per chi non lo sapesse sto cercando di fare un video al giorno tutti i giorni di gennaio Ho visto che c'è stato tanto supporto negli ultimi due video che vi invito a guardare perché sono due video molto interessanti E vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like sotto questo video qua Visto che se raggiungiamo i 60 likes entro oggi farò un video domani in cui vi mostro tre azioni da dividendo Che secondo me vale la pena tenere d'occhio o magari comprare per il 2021 Detto questo voglio portarvi il video in cui vi mostro quali sono le mie azioni in perdita perché sono umano, faccio errori e voglio mostrarveli Perché magari ve li faccio evitare a voi E io penso che una community serva di fatto a questo E andremo anche a vedere le azioni in cui sto prendendo se secondo me conviene venderle quindi vendere in perdita o se mantenerle Come sapete farò un video anche a breve sul mio portafoglio ma quello arriverà penso a metà gennaio Ora vi faccio vedere solo le posizioni in perdita Allora ragazzi ve le mostro subito tutte visto che magari voi siete interessati ma voglio andare poi a analizzarle singolarmente Allora già la prima cosa che potete capire è che tendenzialmente su 1,2,3,4,5,6,7,8,9 posizioni in perdita sono 5 cinesi 5 Questo vi fa già capire la difficoltà che ho io nel cercare di trovare delle buone occasioni nel mercato cinese Su questo devo migliorare ma è un mio errore E cercherò di visto che tendenzialmente io le revisioni del portafoglio lo faccio anche per questo Voglio cercare di capire quali sono gli errori che sto facendo Già un primo errore è evidentemente che è valuto male le azioni cinesi Questo perché? Perché è un approccio molto più distaccato dalla realtà aziendale Perché? Perché semplicemente non utilizzo i servizi delle aziende su cui vado a investire Ad esempio Momo e Weibo che sono due social cinesi Io non utilizzandoli mi baso solo su quelli che sono i bilanci, le previsioni degli analisti e poco altro Purtroppo non la possibilità di riprovarli come Facebook e altri social Quindi diciamo che il mio approccio è un po' più distaccato E questo potrebbe essere tranquillamente già un errore che ho io Però ho cercato già anche di vedere video di cinesi che appunto presentassero queste azioni qua Ma cercherò magari di prendere più fonti Detto questo però come vi ho detto prenderò le lezioni singole e vi farò vedere secondo me se conviene venderle o no Come potete vedere in realtà su un portafoglio di circa 18.000 dollari ho praticamente in perdita Allora facciamo un attimo la somma La somma dovrebbe essere veramente bassissima Vedete ho 81 dollari di perdita Però ragazzi tendenzialmente io spero che continuerà a essere così Poi ovvio non si sa mai però tendenzialmente non è che sembra stato così Ho avuto posizioni anche in perdita del 30 del 40% C'è stato un periodo in cui Westrock mi ero su Westrock ero in perdita del 30% Su Shell ero in perdita anche del 35% Su Gazprom del anche lì sul 30% Però ho sempre mantenuto e quindi attualmente mi trovo in questa situazione qua Però tendenzialmente questo video qua lo voglio fare anche per mostrarvi Visto che tendenzialmente tutti i youtuber mostrano solo i guadagni Voglio mostrare anche le azioni che ho in perdita Però non sprechiamo in chiacchiere E vediamo attualmente cosa penso di fare su queste azioni qua Partiamo quindi da Baozun Allora come potete vedere Baozun è in forte crescita Ovvio non posso stare qua troppo a farvi l'analisi su Baozun Perché devo fare 9 aziende Però tendenzialmente vi faccio vedere semplicemente quello che penso di fare Attualmente non penso di incrementare la posizione Anche se attualmente occupa Cioè investito occupava l'1% del mio portafoglio Attualmente ne occupa lo 0,94 Non ho intenzione né di aumentare Aumenterò la posizione solamente intorno ai 30-28 Intorno a questo prezzo qua insomma Attualmente Baozun quota a 34 Dovesse tornare intorno ai 30 magari 28 Aumentano la posizione Io qua ero entrato con una prima tranche E poi avevo intenzione di aumentare solamente Nel caso in cui avesse toccato un altro price target Quindi attualmente non penso di venderla La seconda è Salesforce Che non ve la faccio nemmeno vedere Perché l'ho mostrata nel video di ieri Delle 5 azioni che consiglio di comprare Semplicemente è in perdita perché Ho appena iniziato a prendere le posizioni Ed è in perdita dell'1% Per quanto riguarda Tencent invece Possiamo vedere come di fatto Sto anche qua a prendo posizione Perché a mio avviso questi prezzi qua sono ottimi Attualmente Tencent quota 71 Per me è un buon prezzo di entrata Con un 20% di margine di sicurezza E intorno ai 78 Però come sapete tutti i titoli cinesi Sono scesi di molto Ad esempio troviamo anche Alibaba qua Perché in generale l'indice cinese Ha perso veramente tantissimo Soprattutto Tencent e Alibaba Che sono due Praticamente monopoli E quindi sono scesi per l'antitrust cinese Detto questo però Io sinceramente non mi fa paura Ovvio non sono posizioni che Grandissima parte Alibaba Che occupa il 3% del mio portafoglio Però non ho intenzione Come vi dicevo di vendere Perché Alibaba per me è un colosso Che voglio avere in portafoglio Anzi Tendenzialmente ho aumentato anche recentemente Le posizioni Quindi vi dico già che sia Tencent e sia Alibaba Le aumenterò Anche perché come vedete su Alibaba Secondo i miei calcoli C'è un margine di sicurezza enorme A questi prezzi qua Cioè per me c'è un 44% di margine di sicurezza Su Alibaba A questi prezzi qua Quindi intorno ai Vediamo un attimo Intorno ai 232 dollari Per me è veramente abbastanza regalata Però sono mie valutazioni Un'altra azienda che ho in perdita È un'azienda che sto comprando adesso Ed è Brookfield Infrastructure Partners Dove sono in perdita del 2,91% Ma anche qua ho aperto la posizione da poco Sostanzialmente Tutte queste qua sono posizioni aperte da poco A parte Alibaba Mentre diciamo Queste tre qua sono effettivamente Le tre posizioni che ho in perdita Perché appunto Ho in perdita Weibo però Sinceramente Devo dire sinceramente Ho sbagliato la valutazione Perché quando l'ho comprata Avevo creato un modello sbagliato Ed ero entrato anche Se i prezzi non erano buoni Perché avevo sbagliato semplicemente il modello Mi errore Mi errore E infatti ne pago le conseguenze Attualmente io a Weibo Ho un prezzo di 42 dollari Anche se il prezzo giusto D'entrata È come minimo 34 Quindi ho fatto un grosso errore Però attualmente mantengo Perché è una posizione piccolissima Visto che ho preso qualche Un'azione forse E in attesa di poterla valutare meglio Per fortuna Visto che tendenzialmente Vi faccio sempre così Quindi attualmente Sto perdendo il 4% Ma dovesse scendere E tornare intorno a magari 30 Potrei comprare O magari sotto Intorno ai 34 potrei comprare Detto questo Sinceramente non è un'azienda Che mi fa impazzire Quindi dovesse Ovviamente Salire Magari potrei pensare Di venderla Attualmente Ho un prezzo medio Come vi dicevo Di 42 Dovesse per dire Da andare intorno ai 50 La venderò Perché non è che mi faccio Così impazzire Ovvio Dovesse appunto Come vi dicevo Comprarla intorno ai 30 Secondo me È un buon prezzo di entrata Detto questo Andiamo a prenderci Quello che è un po' il succo Ovvero Momo Intel E Biogen Come potete vedere Intel Io purtroppo Sono entrato Prima del primo crollo Infatti Il mio prezzo medio All'inizio Era intorno ai 60 Poi ho sempre comprato Un po' con il crollo Sempre mediato E so un prezzo medio Di 53 Che è un prezzo ancora alto Considerando che È da tantissimo Che è intorno a questo prezzo qua Però era entrato Con abbastanza tanti soldi Su Intel Intorno Ai 60 Perché a mio avviso Erano ancora dei prezzi Buoni Poi purtroppo Sono uscite un paio di notizie Brutte E quindi Intel è continuato a scendere Però a mio avviso Con questo modello di calcolo qua Intel è ancora buonissimo Da acquistare Visto che c'è un marino di sicurezza Il 33% Detto questo Ormai non ci sa qui niente Perché? Perché Microsoft Ha abbandonato Intel Come processori Apple ha abbandonato Intel Come processori Quindi sinceramente Non so Io Non penso di entrare Ancora su Intel A meno che non raggiunga Prezzi Ovviamente Bassissimi Però attualmente Occupa già Il 3,41% Del mio portafoglio E non ho intenzione Di aumentare Per ora Stessa cosa Per Momo E Biogen Visto che Sì Secondo i miei calcoli In teoria C'è un marino di sicurezza Però magari Il marino di sicurezza Lo vedo solo io E tendenzialmente Il mercato Non lo sta vedendo Anche perché Continua ad essere in perdita Su Momo E su Biogen Sono sempre stato in perdita A parte su Biogen Il giorno Che ha fatto il 40% Ma non l'avevo venduto Perché secondo i miei calcoli Non bisognava vendere Ma evidentemente Mi sbagliavo Non lo so Comunque Tendenzialmente Io Biogen E Momo Le venderò Solamente Nel momento in cui Non avrò Assolutamente Marino di sicurezza Quindi Magari Avrò un Meno 50 Qua Quindi Penso potenzialmente Intorno Ai 25 dollari Potrei magari Vendere Momo Però Per ora la hold E per Biogen Dovrei venderla Intorno ai 500 Probabilmente Se Dovesse mai Raggiungerli E allora in quel caso Di pensare di venderla Detto questo Io Biogen E Momo Attualmente Li mantengo Perché Perché sono azioni Che secondo i miei calcoli E il secondo Il calcolo Degli analisti Dovrebbero continuare A salire Attualmente Sono in perdita Attendendo Che il mercato Magari se ne renda conto E inizia di investire Attualmente Però Secondo i miei calcoli Non compiene vendere Detto questo Io spero Che questo breve video Vi possa essere D'aiuto Fatemi sapere Magari voi Sotto nei commenti Cosa fareste Con queste aziende qua Fatemi sapere Anche magari voi Quali sono Le vostre azioni In perdita E cosa avete Inizioni di fare Detto questo Io spero Che questo video Vi sia piaciuto E lasciatemi un like Un commento E un'entregazione Per il prossimo video Che sarà domani Bella ragazzuoli